8.000 capi contraffatti sequestrati e due persone denunciate a piede libero. E' questo il bilancio di una maxi-operazione eseguita all'alba di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Pescara in un magazzino di Via Raiale. Il blitz scaturisce da un precedente sequestro effettuato dalla finanza tra il 28 e il 29 aprile, sempre a carico della stessa persona. Si tratta di un cittadino cinese regolare sul territorio nazionale, le cui mosse sono state attentamente seguite dalle fiamme gialle dalla fine di aprile. In questo periodo sono stati analizzati anche gli spostamenti di altre persone a lui vicine e sono stati studiati i suoi contatti telefonici. Si è così arrivati al nuovo magazzino utilizzato dall'uomo dopo il precedente sequestro che aveva riguardato circa 8.200 capi contraffatti. Anche stavolta si tratta di scarpe, borse, portafoglie e cinte di griff famose tutte falsificate per un valore di oltre 40.000 euro. Insieme al cinese è stato denunciato anche un sostretto familiare. Mauro Dorisio, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Questa operazione nasce sulla scorta dello scorso intervento effettuato il 29 di aprile del 2011 nel quale già la Guardia di Finanza, i baschi verdi e la compagnia di Pescara avevano posto sotto sequestro 8.300 capi contraffatti. Sulla scorta delle indagini effettuate sullo sviluppo degli elementi e degli indizi raccolti in quella circostanza si è addivenuti all'ulteriore individuazione di un deposito sito in via Raiale qui a Pescara che è stato oggetto chiaramente di nostra visita se non dopo aver ottenuto da parte della Procura della Repubblica di Pescara un provvedimento mirato di sequestro, di perquisizione e sequestro subito concesso e che ha permesso di aprire i locali nei quali sono stati trovati centinaia di scatoloni contenente la merce contraffatta per circa 8.000 capi. e quindi con questo nuovo sequestro la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato ben 16.000 capi tutti griffati e imitati palesemente per circa un valore di 80-90.000 euro.